Il recente incendio nella Cop di Punta Greve tra Scandicci e Firenze continua ad avere strasci e se la Procura continua le indagini, il Comune di Firenze ha emesso ieri un'ordinanza dove si ordina di evitare il consumo di prodotti orto-frutticoli raccolti nei terreni circostanti. Questa mattina i tanti agricoltori di zona si sono svegliati con il dover interpretare quel circostante anche se Arpat ieri ha precisato che le superfici e la vegetazione non sono contaminate. Vedremo che ne sarà già nei prossimi giorni dell'ordinanza. Intanto però c'è chi previene come l'agricola Bercini dopo le tante telefonate ricevute dai clienti e si prepara a campionare i prodotti della terra. La nostra azienda che in questo momento siamo sulla parte della nostra carciofaia ricade a circa un chilometro in linea d'aria, forse meno dal punto vendita. Per essere tutelati ulteriormente da qualsiasi possibilità di prodotti dannosi per la salute o comunque non conformi alle leggi abbiamo deciso di fare come dal nostro protocollo di autocontrollo e abbiamo fatto delle analisi straordinarie su alcuni prodotti per essere più sicuri anche perché ci hanno chiamato diversi clienti per sapere un po' la situazione. Abbiamo una vendita diretta che ormai è conosciuta in zona, più lavorando anche con la grande distribuzione dobbiamo giocoforza tutelare la salute per prima. Questo indipendentemente dal fatto dell'incendio oppure no, abbiamo un protocollo e quello dobbiamo attenerci.